Mi chiamo Andrea, sono nata a Lecce e cresciuta a Melendugno, qui con tutti quanti i coetanei, noi qui siamo abituati così, siamo molto legati alla terra, all'aria aperta, al sole, al mare, queste sono le piccole cose che abbiamo qui, insomma, queste sono le piccole cose che ci danno gioia qui, perché poi non abbiamo grandi altre soddisfazioni, anche a livello economico, perché comunque facciamo tutti i lavori che non ci piacciono, prendiamo quello che capita, perché lavoro qui al sud, come ben sappiamo, non ce n'è, di conseguenza ci siamo adattati a fare i contadini, abbiamo sempre vissuto di questo, di conseguenza nessuno ci ha mai guardati in faccia, siamo derisi da tutta Italia, i terroni presi in giro, però nel momento in cui questa gente ha bisogno delle nostre risorse, viene qui, fa ciò che vuole, si prende tutto quel poco che abbiamo costruito da soli, perché questi alberi e queste campagne sono state portate avanti dalle braccia, dal lavoro dei nostri nonni, dei nostri padri, e questa gente arriva e ci toglie tutto ciò che abbiamo di bello e pretende che noi stiamo zitti, tranquilli e ci facciamo passare sopra i carri armati, non avremo nessun vantaggio noi di tutto ciò, a parte il dolore a livello sentimentale di vedere questo scempio, ridotta la nostra terra in queste condizioni.